Delusione, timore e qualcuno decide anche di chiudere l'attività in attesa di provvedimenti meno restrittivi da parte del governo. C'è grande preoccupazione nel mondo della ristorazione, fra bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, nell'ultimo giorno d'apertura prima che entrino in vigore anche in Toscana le regole della zona arancione. Da domani queste categorie infatti potranno fare solo servizio d'asporto e consegna a domicilio. Ma c'è chi, come il ristorante Soldano in Duomo, annuncia la chiusura del locale. Lo sapevamo che doveva succedere, insomma ormai era già una decina di giorni che si diceva che saremmo diventati arancioni. E quindi niente, noi da domani chiudiamo e aspettiamo le nuove disposizioni del governo. Provate a fare l'asporto e come sono andate queste ultime settimane? Allora, abbiamo provato a fare l'asporto ma non siamo adatti a farlo, insomma. E queste settimane è stato un sopravvivere. I bar del centro provano invece ad andare avanti puntando sull'asporto, anche se l'abbondante uso dello smart working fra dipendenti pubblici e uffici ha diminuito di molto la clientela potenziale. Purtroppo la decisione è stata una decisione, al di là che è stata improvvisa, è un po' problematica perché noi abbiamo tutti i dipendenti e da domani dobbiamo lasciare a casa e noi soci rimarremo per provare per qualche giorno l'asporto, se sarà conveniente o meno riuscire a stare aperti e vediamo, speriamo che tutto questo sia solo per un breve periodo. Con l'esperienza dei mesi scorsi dell'altro lockdown facciamo soltanto l'asporto, ci organizziamo per l'asporto per chi si presenterà a chiedere qualche cosa perché il bar rappresenta un punto di ritrovo, un punto dove si legge il giornale, ci si scambia quattro chiacchiere, la battuta, tutto quanto. Prendere un caffè e andarla a bere per la strada, non so quanti poi magari preferiscono farlo. In centro questo pomeriggio, all'ora di pranzo, comunque c'era ancora un buon movimento e molti pratesi ne hanno approfittato per un ultimo pranzo nel locale di fiducia. Da domani bisogna cominciare a rispettare regole più ferre, sicuramente necessarie, però perlomeno oggi proviamo a gustarci l'ultimo assaggio di normalità.